poi ecco qua la pizza la devi dà a metà rivediamo a metà e vediamo cosa nasce estratto di pizza sottilissima abbastanza fine cioccolatino vedete si vede senza l'ombra di olio fritta bene adesso si apre in mezzo eccola qua la mozzarella vedete si aggiunge il kebab diciamo è un vero panino napoletano si aggiunge i croquet ma che salsa un po' di arissa mettici un po' di ketchup e mionese ecco questo è il mio dodo di sempre parlato da me guardi per me grazie mille della visualizzazione e vi auguro buona serata e buon inizio di settimana